Allora, ciao Frollini, stasera sono tanto tanto felice perché un'azienda con cui collaboro mi ha fatto una sorpresa mi ha fatto arrivare una cosa bellissima a casa e dopo ve la faccio vedere Intanto vi dico di chi si tratta, GMS Di Grafia che fa cose bellissime per la casa fa piatti, bicchieri, bottiglie, candele, ma la cosa bellissima è che le può personalizzare cioè se voi avete tipo un anniversario, una ricorrenza e volete tipo regalare dei bicchieri o un vassoio loro vi ci scrivono sopra anche la dedica, quindi è molto carina intanto la prima collaborazione era quella dei vasetti, avete visto anche delle ricettine con questi vasetti ho messo delle ricettine, oltre ci possiamo mettere le robe dentro, io ci ho anche cucinato con questo ci ho fatto la tortina proprio, possono essere anche conservate i cibi, insomma le pietanze perché vedete ci sono i gancetti quindi sono comodissimi, questo è questo ciccioso che è troppo carino ma la cosa bella, infatti le voglio ringraziare per questo stupendo regalo che io ho veramente aspettato che mi ha reso felicissima e non avevo l'ora di usarlo per metterci le mie ricette e comunque andate a vedere perché ce ne sono di tantissime qualità, colori, forme, chi più ne ha più ne metta però questo, vi ho fatto vedere la foto prima, però questo è una roba stupenda cosa vi devo dire? Grazie GMA e grazie Alice perché sei quella con cui ho i contatti, sei una persona dolcissima e questa è un'azienda tutta al femminile e quindi questa collaborazione per me è ancora più gradita quindi mando un bacione a tutti, vi auguro una buona serata, io stasera fuori con le colleghe Ciao!